Prossima partita di campionato siamo in trasferta a Bologna contro l'Avitus Bologna, una squadra costruita per degli obiettivi molto importanti, guidati da uno dei migliori allenatori in Europa che è Sergio Scariolo. Una squadra molto fisica, molto lunga e molto solida. Per quanto riguarda il loro attacco, è una squadra che punta molto a giocare in situazioni di post basso, soprattutto con Cendela, con gli esterni, ma anche con i playmaker. Ha l'uscita di Bellinelli che in questo momento è in grandissima condizione, senza dimenticare i picker-roll di Daniel Hackett e di Megno, dal quale costruiscono vantaggi per i loro tiratori. Per quanto riguarda in difesa è una squadra molto solida, molto aggressiva, che punta a rompere gli equilibri in attacco delle proprie avversarie. Dovremo sicuramente giocare molto fisici per togliergli la loro fisicità a ribalzo, la loro fisicità nel pitturato e quindi dovremo giocare con grandissima velocità e con grandissimo flusso di gioco per cercare di non fermare mai la palla. Inoltre dobbiamo lavorare per recuperare i nostri acciaccati, vediamo chi sarà della partita e ripartiamo dall'ultimo quarto con Brescia, dove abbiamo fatto veramente una partita di grandissimo livello e dobbiamo partire da quel momento lì per ripartire con tantissima fiducia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.